Sono intervenuto in commissione lavoro sperando nella resipiscenza della maggioranza che si ravvedessero. Invece c'è un atteggiamento di chiusura totale. L'unica cosa che hanno saputo presentare in quattro mesi di lavoro durante il quale abbiamo presentato la nostra proposta di salario minimo legale è un loro emendamento completamente soppressivo della nostra proposta. Non c'è nessuna controproposta da parte di questo governo che a parole riconosce che c'è un problema per lavoratori che prendono buste paga da fame. Questo che cosa significa? La Presidente Meloni non si assume la responsabilità di portare rispetto e restituire dignità a 3 milioni e 600 mila lavoratrici e lavoratori che prendono buste paga da fame. Presidente, qual è la vostra posizione sulla raccolta di firme, sull'idea della raccolta di firme di Schlein? Adesso noi facciamo la nostra battaglia in commissione. Andremo in aula e continueremo la nostra battaglia in aula e se non sarà sufficiente parleremo al Paese intero. Continueremo la nostra battaglia nel Paese.